Non c'è niente di più sbagliato che continuare a mandare armi in Ucraina. Le parole di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma ed ex ministro in occasione del convegno Fermare la guerra a salvare l'Italia, dedicato al conflitto russo-ucraino che si è tenuto nella sala consigliare del palazzo della provincia di Chieti. La domanda inevitabile sul possibile lassismo del governo in materia di politica estera. No, più che lassismo è un eccessivo allineamento agli Stati Uniti. Bisogna tirare fuori gli attributi nel senso che bisogna dimostrare che l'Italia e questo governo che nasce proprio sull'interesse nazionale lo persegue realmente, cioè difende l'interesse del nostro popolo. Noi oggi in questo momento stiamo semplicemente seguendo gli interessi degli Stati Uniti che crescono e si arricchiscono su questa guerra mentre tutta l'Europa si impoverisce. È stata l'occasione anche per ricordare la campagna di raccolta firme per il referendum che serva da vogari decreti che consentono l'invio delle armi. Tra l'altro, ha rimarcato il portavoce nazionale del Comitato Fermare la Guerra, è incostituzionale. Nella nostra Costituzione, all'articolo 11, c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra e quindi è assolutamente impensabile che possa entrare in un conflitto che non ci riguarda direttamente. Noi dobbiamo aiutare il popolo ucraino promuovendo la pace, così come ci chiede anche Papa Francesco. Abbiamo tutta la politica sia a destra che a sinistra che continua a dire sì a questa guerra, conclude Alemanno. Da un lato e dall'altro ci sono i cittadini che dicono no all'invio delle armi, aiutiamo l'Ucraina e promuoviamo la pace. Credo che sia un'iniziativa fatta con il cuore e con la testa, il cuore di chi vuole il bene del paese e capisce che questa è una guerra che nuoce l'Italia, nuocere economicamente e potrebbe nuocere ancora di più se anziché andare verso un necessario processo di pace ci fosse un ulteriore escalation che coinvolgerebbe anche più direttamente. E di qualche settimana fa quegli scontri che si sono avvenuti nella ex penisola balcanica, nell'ex Yugoslavia, non vorremmo che l'Italia fosse coinvolta ancora di più di quello che già fin troppo lo è. E credo che sia un'iniziativa giusta che va nell'onda del sentimento popolare di tanti, anche in Abruzzo, che ritengono che sia necessario che qualcuno si attivi per creare la pace.